In questa puntata, Il Consiglio straordinario per l'Ucraina Consegnato il gonfalone d'argento a Rondine Libri Don Fanfani e i preti operai Custodi della montagna? Sì alla nuova legge! Tutti in piedi per un minuto di silenzio per ricordare e celebrare le vittime della guerra ucraina. È cominciato così, dopo l'invito al raccoglimento rivolto ai consiglieri dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana, Antonio Mazzeo, la seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata al conflitto. Oggi bisognava che venissero fuori tre cose fondamentali. La prima, no a questa guerra che fa male, che fa male alla popolazione ucraina, ma fa male anche ai valori della democrazia e della libertà della nostra Europa. Dire e dare sostanza alla popolazione ucraina, alle cittadine, ai cittadini, alle bimbe e ai bimbi che stanno vivendo giorni di terribile sofferenza. Mandare un messaggio per quello che è possibile a chi costruisce ponti in queste ore che la pace è l'unica via percorribile. Bisogna ritrovare una strada di libertà e di democrazia. Io non ho sentito da parte di nessuno un'autocritica doverosa nei confronti dell'Europa. Non possiamo far finta di pensare che il conflitto tra Russia e Ucraina nasca ieri. Il conflitto nasce e affonda le radici nel recente passato, penso alle rivoluzioni colorate, il 2014, ma non solo. E il vero grande assente in tutto questo è l'Europa. È chiaro che in queste situazioni l'unità che tutto il Consiglio regionale dimostra, e quindi la solidarietà al popolo ucraino e la condanna unanime di questa azione di guerra portata avanti dalla Russia, sono temi sui quali assolutamente non ci si può dividere. È chiaro che siamo di fronte a una situazione estremamente delicata, non sappiamo quelli che saranno gli sviluppi da qui a poche ore. Ci sono però anche dei contraccolpi che tutta questa situazione sta portando, nel nostro sistema economico soprattutto. La nostra posizione è una posizione chiara, è una posizione di vicinanza all'Ucraina e ai cittadini ucraini, e anche di vicinanza a tutti coloro che in Russia stanno manifestando contro la guerra e vengono arrestati, perché se per noi è qualcosa di normale andare a manifestare in questo momento, in Russia non lo è. La condanna verso questa aggressione incredibile nei confronti dell'Ucraina deve essere ed è stata unanime, ferma, solida e inflessibile, ma doveva essere declinata soprattutto in solidarietà e vicinanza a tutta la comunità ucraina, quella che ancora oggi si trova nel paese natale, in questa situazione incredibile per il nostro secolo, ma anche alla popolazione che risiede stabilmente in Italia, in Toscana. Una solidarietà anche morale e concreta. Arriva un segnale forte dalla Toscana in maniera unitaria, tutte le forze politiche votano un documento che condanna fortemente quanto la Russia sta facendo in termini militari, che mette in discussione il livello di sovranità e di autonomia di un popolo, di una democrazia che sta faticando ma che sta resistendo. Da parte nostra ovviamente il sostegno nei confronti del popolo ucraino, la disponibilità ad accogliere tutti coloro che riusciranno a fuggire i profughi, dare una forma di assistenza, di accoglienza e soprattutto una Toscana che grida con forza, che serve la linea diplomatica, che serve la pace, una Toscana che prova anche a raccontare quello che sta succedendo anche alle nuove generazioni, ai ragazzi che per la prima volta si trovano di fronte a una guerra che purtroppo viene comunicata costantemente sui social e ne deforma anche la rappresentazione tra chi vuole negarla e chi vuole enfatizzarla. Occorre disegnare un'Europa diversa. Se vogliamo l'Europa dobbiamo avere un'Europa che parli con una voce unica, che abbia una politica economica unica, che abbia una politica di difesa unica, che abbia un esercito unico e si arrivi addirittura a votare in maniera democratica il proprio Presidente, perché così non funziona. E ci renderemo conto del fatto che non funziona proprio perché gli accordi che l'Europa ha voluto, cioè l'abbassamento del 50% delle emissioni di CO2 entro il 2030, ha escluso da questo accordo proprio quelli che sono i paesi che inquinano di più al mondo, non tenendo in considerazione che tutto questo avrà delle ripercussioni per le nostre imprese e per le nostre famiglie. Ma intanto è importante che il Consiglio regionale della Toscana abbia fatto sentire unitariamente la propria voce a condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e contro la guerra, che abbia espresso piena solidarietà al popolo ucraino e sostegno a tutti quelli che nel mondo, compreso in Russia, stanno manifestando contro la guerra. Dopodiché penso che dalla Toscana non poteva non uscire un richiamo forte al sostegno e al rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche di contrasto alla continuazione del conflitto bellico. Ieri sera parlavo con il Presidente Fedriga. Tutte le regioni stanno cercando di agire con unità e la Toscana oggi ha fatto la sua parte con una risoluzione che da un lato si esprime con una valutazione di assoluta condanna verso quell'aggressione che Putin ha animato verso un popolo che in modo democratico si era scelto i propri organi di governo, che stava vivendo il suo percorso di sviluppo e di crescita e che senza giustificazioni plausibili è stato aggredito e invaso come purtroppo nella peggiore tradizione che la storia ci insegna, penso all'aggressione dei sudeti nel 1938-39 da parte di Hitler. La solidarietà al popolo ucraino per l'aggressione militare subita, ma ho cercato di pensare e condividere con il Consiglio quello che il Consiglio regionale effettivamente può fare, perché è chiaro che fare un'analisi geopolitica o un'analisi di strategia militare all'interno di un Consiglio regionale diventa difficile all'interno di uno Stato, quindi quello che io auspico è un intervento nel campo del diritto internazionale umanitario, in corrispondenza e chiaramente aprendo anche un tavolo con le associazioni che operano nel territorio del conflitto. Il gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana è stato consegnato a Rondine Cittadella della Pace, luogo di speranza per lo straordinario impegno con cui da 25 anni forma giovani provenienti da tutto il mondo per favorire la risoluzione non violenta dei conflitti, il confronto, il dialogo e la pace. Avevamo pensato a tutto questo il 18 di febbraio quando abbiamo visitato insieme ad alcuni colleghi l'esperienza di Rondine che mi ha toccato il cuore, un'esperienza grande, un'esperienza che però in questi giorni proprio in cui i valori della nostra democrazia sono stati toccati in maniera così forte dall'attacco della Russia all'Ucraina. Abbiamo deciso di velocizzare la scelta da consegna di questo gonfalone d'argento per dare una risposta, un segno forte verso costruttori di pace come le tante ragazze e i tanti ragazzi che vengono da luoghi di conflitto e che invece insieme dopo un percorso importante guardate all'inizio faticano anche a voler lavare i panni nella stessa lavanderia, a guardarsi negli occhi c'è la costruzione del nemico per come gli viene raccontato invece in questo percorso, in questo viaggio un viaggio grande, un viaggio bello vengono formate persone che vanno e ritornano come la Rondine nel loro territorio per portare la pace. Io mi auguro che questo luogo un luogo che è cresciuto tanto in questi 25 anni che forma le ragazze e ragazze anche delle nostre quarte classi possa diventare ancora qualcosa di più grande possa formare anche ragazze e ragazzi di tutta Europa era un sogno che aveva anche David Sassoli e mi piacerebbe che insieme potessimo sostenere questa iniziativa Rondine, sempre più un luogo di pace Rondine, un luogo della bellezza e della grandezza della Toscana portata fuori dai nostri territori portata anche in Europa. Ma è un grande riconoscimento perché Rondine da 25 anni parla toscano quindi in tutto il mondo quando andiamo si vede, si coglie immediatamente l'interesse per un'esperienza che è in Toscana e parla il linguaggio della cultura toscana nelle interlocuzioni che hanno fatto crescere Rondine con oltre i 30 paesi del mondo c'è questo riconoscimento con la regione abbiamo fin dagli inizi collaborato per la nascita e lo sviluppo di Rondine però oggi questo è un riconoscimento che sancisce un lungo percorso fatto insieme ma soprattutto rilancia verso il futuro verso le sfide che abbiamo davanti a noi Quella di Don Renzo Fanfani è la storia di un prete operaio dei preti, operai italiani che hanno saputo mettere insieme Vangelo e Costituzione con l'esperienza della loro vita storia di scelte difficili, faticose uomini, preti che hanno deciso di entrare nel mondo del lavoro e hanno scelto anche questo terreno per stare accanto agli ultimi Questa presentazione del libro sulla vita di Don Renzo Fanfani che è stato compagno di seminario del Cardinal Bassetti in questo periodo assume un valore ancora maggiore perché Don Renzo ha fatto della sua vita una testimonianza di vicinanza agli ultimi, ai più bisognosi e di grande battaglia per la pace nel mondo nel 1993 andò in Bosnia e Zegovina quando c'era la guerra dei Balcani quindi questa presentazione è un modo per ricordare una figura importantissima del nostro territorio un modo particolare di fare evangelizzazione e un grande messaggio di pace del quale tutto il mondo oggi ha assolutamente bisogno È un preti operaio è la storia di un preti operai e dei preti operai italiani possiamo dire che hanno saputo mettere insieme Vangelo e Costituzione due elementi estremamente difficili importanti che sono stati insomma faticosi diciamo così da portare avanti ma che loro con la loro vita hanno messo in atto la storia è quella di uomini preti che hanno deciso di entrare nel mondo del lavoro e hanno scelto questo ambito per stare accanto agli ultimi credo che ancora oggi questa storia ci parli perché abbiamo bisogno il tema del lavoro come sapete è un tema che ancora è sul tavolo purtroppo dei drammi sociali e umani e ancora non è stato risolto comunque tanti sono i diritti che vedano ancora arretrare la vicenda del lavoro credo che ancora oggi si sia bisogno di queste testimonianze credo che sia importante che continuino a camminare su gambe di altri e che il messaggio che ne viene fuori sia forte perché comunque insomma la fede in Gesù la fede nel Vangelo e la Costituzione possono essere due maniglie a cui fare riferimento e per i nostri tempi che indirizzano anche il domani prevedere misure specifiche per i soggetti che vogliono avviare un'attività produttiva o riorganizzarne una esistente nei territori dei comuni montani e dare incentivi economici per svolgere attività finalizzate sia alla cura e custodia dei luoghi sia di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento lo stabilisce la nuova legge regionale a sostegno delle aree montane una legge importante a sostegno della montagna dove le persone diventano custodi della loro stessa terra una terra d'origine che molte volte è anche un elemento identitario culturale di appartenenza dei contributi che verranno elargiti alle imprese che nasceranno nelle realtà di montagna o che vorranno ristrutturarsi molte volte possono essere anche giovani che scelgono come scelta di vita di aprire un'attività e ne diventano custodi possono fare dei patti di comunità con le loro città con le loro montagne e questo sarà un elemento discriminante un contributo a fondo perduto che può fare la differenza quando nei piccoli territori magari si decide se chiudere una sede cinesca o tenerla aperta o se si decide di investirci questo è un elemento di grande novità e quindi noi riteniamo che questa legge che promuove di fatto il sostegno e la vita nelle montagne della Toscana possa essere e dare delle grandi opportunità per tutti coloro che decideranno di aprire una nuova impresa o che decideranno di ristrutturarla o che decideranno magari di trasferirsi o di continuare a vivere molti ragazzi e ragazze si sentono custodi delle loro montagne e con questa legge consentiamo loro di realizzare il loro sogno Con questa proposta di legge che è diventata legge noi abbiamo proposto una misura concreta la possibilità di dare contributi per cinque anni a chi aprirà delle attività economiche o a chi già ce le ha e le vuole riqualificare in montagna sopra 500 metri con un'attenzione particolare ai giovani sotto a 40 anni e con la possibilità di stipulare un patto di comunità vale a dire chi ha o apre un'attività economica può stabilire una convenzione con il comune che lo obbliga e gli consente di fare delle attività di custodia del territorio o di attenzione di custodia sociale nei confronti della popolazione che è spesso una popolazione anziana certo è un tassello di un'attenzione di provvedimenti che la regione ha già iniziato a produrre e che dovranno anche essere oggetto di attenzione e di priorità per il futuro ma in questo modo siamo passati dalle parole ai fatti con una misura concreta che speriamo noi possa dare un contributo alla montagna e a chi ci vive a chi ci vive a chi ci vive